Allora ragazzi, alla chiusura del Gran Premio di Singapore la migliore forza in pista è stata una, ossia McLaren. Chi invece ricopre il secondo ruolo e la seconda forza in queste ultime gare è stata Ferrari per passo gara, per forza espresse in pista e anche per risultati. Passi gare a gestione gomme molto ottimisti. La RB20 non sembra migliorare col passare delle gare. In questo contesto dire che Red Bull rischia dopo la leadership nei costruttori anche la leadership dei piloti. Siamo esagerati e non stiamo menzionando la fuga di cervelli, gli ingegneri che vanno via, Verstappen scontento, Red Bull non può trattenere tutti. Il campionato piloti è a rischio. Oggi noi cerchiamo di rispondere a questa domanda, cercando di comprendere con quali casistiche Verstappen può perdere la leadership nella classifica piloti. Attualmente lui è il leader con 52 punti di vantaggio, ma se mancano 6 gare, più 3 sprint, quindi un totale di 174 punti, escludendo i giri veloci, quindi eventualmente più 6, 180 punti possono assolutamente incidere su questo campionato e possono farglielo perdere. Anche se certamente non è così semplice, ma ci arriviamo. Prima di partire però ci tenevo a ringraziarvi per come avete accolto la questione donazioni per supportare il canale. Io che mangio YouTube dalla mattina alla sera so perfettamente che chi è dall'altra parte quando sente parlare di queste cose non è che proprio è contento. Ma siete stati proprio voi a tranquillizzarmi, il video è andato molto bene e dunque rimarrà fin quando serve il link in descrizione. Io poi al termine di ogni video andrò a ringraziare chi ha supportato il canale, aggiungendo nuovi nomi. E se una volta l'obiettivo era nei 100k, adesso l'obiettivo è salvarmi. E dunque se vi siete iscritti, grazie mille. Adesso però proseguiamo con il video. Dunque, il Gran Premio di Singapore ha mezzo salvato la faccia di Red Bull. Ma il venerdì di Prove Libere ha davvero tanto messo in evidenza le difficoltà del team campione del mondo in carica. Che nonostante il secondo posto portato a casa a fine weekend con Verstappen si è trovata a dover gestire una delle giornate peggiori di tutta la stagione. A esprimere il maggior disagio del team è stato Helmut Marko, è chi se non lui, che senza girarci troppo attorno ha detto che sulla vettura di Max Verstappen non funzionava nulla. Né con le morbide né con le dure hanno mai trovato grip. E il bilanciamento della vettura era pessimo. Verstappen durante il weekend ha segnalato più volte di avere numerosi problemi in trazione, in uscita e in una pista stop and go come quella di Marina Bay, caratterizzata proprio da frequenti ripartenze, risulta essere un problema particolarmente penalizzante. E ricordiamolo il caos durante le prove libere, che nelle FP1, dopo un discreto quarto posto, si è cercato di stravolgere tutto, si è deciso di modificare l'assetto togliendo carico, cercando di migliorare il giro secco ma così facendo hanno soltanto peggiorato la situazione. Le gomme mai in temperatura ideale e guarda un po' quando finiscono le prove libere Verstappen dove lo ritroviamo nelle retrovie. Una difficoltà, non dico emblematica, però la Red Bull è sempre stata molto brava a comprendere come si sviluppava la pista, a interpretare la sua evoluzione, è sempre stato uno dei punti forti della Red Bull. E invece dopo il 2021, dopo il 2022 e dopo il 2023 che hai fatto passeggiando dove hai dominato sui tuoi punti forti. Arriviamo al 2024 e non si capisce niente e si va peggiorando. Le scelte tecniche di Red Bull oggi sono sbagliate e i risultati ne risentono. Non c'è il giusto grip, Verstappen racconta di una monoposto che è come se scivolasse in curva e questo l'ha portato in gara in certi momenti ad avere lo stesso passo non disturbato da nessuno di gente che chiude la top 10. Tutti signori, per carità di Dio, ma il binomio Red Bull-Verstappen era un'altra cosa, a tratti peggiore della Racing Bull di Yuki Tsunoda. Questo per dire che in casa Red Bull sanno benissimo che il secondo posto portato con Verstappen è oro, ma è frutto anche di tante casistiche. C'è chi ha sbagliato la qualifica, c'è chi paga errori individuali, c'è chi non ha trovato il giusto setup, c'è chi soffre in qualifica, che assolutamente non toglie merito la Red Bull, ma lo aggiunge. Però sanno benissimo che non possono contare sempre sull'errore degli altri, ma che per vincere un mondiale, noi lo sappiamo benissimo perché l'abbiamo perso proprio conto di loro prendendo i numeri, beh anche loro devono fare i conti con la matematica. Dato che mancano 6 gare, facciamo un confronto con le ultime 6. Oscar Piast è andato al podio 5 volte, Lando Norris 4, Charles Leclerc 4, Lewis Hamilton 2 e poi Verstappen a pari merito col pilota britannico. Due volte sul podio. E dunque, se ripeti gli stessi risultati delle ultime 6 gare, chi lo porta a casa il titolo? Quindi da Austin fino ad Abu Dhabi noi ipotizziamo che Lando Norris continui a sbagliare e che quindi porti a casa un secondo, un quinto posto, un primo, un terzo, un quarto e un primo posto. E Verstappen porti a casa un quinto, un quarto, un secondo posto, un sesto posto, un quinto posto e un secondo posto fortunato. Quello di Singapore. Soltanto così porta a casa il mondiale Verstappen, con 20 punti di vantaggio. C'è però un problema. Noi non abbiamo contato i giri veloci. Quanti giri veloci ha fatto Norris? 3. Quanti Verstappen? 0. Quindi 3 punti in meno. 20-3 fa 17. Mondiale ancora nelle mani di Verstappen. Complicato perché credere che Norris continuerà a sbagliare le partenze dopo Singapore che può essere stato un crocevia importante, che magari l'ha sbloccato, la vedo dura. Però, ecco, stiamo ipotizzando tutto per assurdo. C'è un altro errore però in questo mio calcolo. Mancano le sprint. Una sprint vinta da 8 punti. Se fai secondo 7, se fai terzo 6, eccetera eccetera. Ora, con questa media mi risulta molto difficile pensare che a portere a casa la vittoria non sia Norris. Soprattutto in sprint è davvero tanto difficile. Ipotizziamo il miglior scenario per Norris. 3 primi posti. Che vanno a mitigare i risultati che ha fatto. Perché ripetere gli stessi ultimi 6 risultati significa aver comunque fatto abbastanza male. Ci aggiungiamo 3 vittorie in sprint. 8 più 8 più 8. Con Verstappen invece ci aggiungiamo un terzo posto, un quarto e un quarto. Che realisticamente, se Oscar Piastri corre, se Charles Leclerc corre, se mantengono questo ritmo e questi risultati, vedo fattibile un terzo, un quarto e un quarto. Verstappen continuerebbe a vincere il mondiale per 9 punti. Con Norris che trova il meglio dalle sprint. Quanto è davvero possibile vedere un Verstappen campione del mondo? Rimane comunque il grande favorito perché voglio credere, voglio sperare che comunque Red Bull riesca leggermente a migliorare i risultati e non faccia portare a Verstappen i sesti e i quinti posti, ma anche solo una sfizza di quarti posti. Facendo sempre 12 punti il mondiale è tuo, col ritmo di Norris sbagliato. Però 9 punti di margine con uno scenario che reputo assolutamente fattibile, possiamo farli diventare 12, 13 se proprio Norris neanche le sprint porti a casa. Ma a quel punto lo merita Verstappen. Però con 13 punti di distacco sei tranquillo, non sei tranquillo, perché nelle ultime 6 gare, 9 sprint incluse, devi sperare di non fare mai un out. Che in questa stagione non si stanno verificando, diciamo tutto quello che è. C'è il contatto di Verstappen con Norris a Spielberg, ma alla fine solo Norris ne è uscito danneggiato, Verstappen è chiuso e quinto. Però non devi fare 0, non devi fare un ottavo posto, che ti può succedere. E se lo fai in sprint è più 8, i punti che se valano Norris e Verstappen erano 9 quando abbiamo finito il conto. E se esce fuori uno 0 per mezzo, o ritrovi le performance, il mondiale è finito. Ed è qui però che forse in un contesto così travagliato può trovare spazio il nostro caro Sergio Perez. Che in questo periodo ho sempre tirato in causa e l'ho sempre trattato malissimo. Però in questo caso lo tiriamo in causa perché nonostante i risultati non fantastici che trova nel culmine a Baku, in realtà proprio a Baku non era andato male. Nelle ultime gare ha spesso affiancato il suo compagno di squadra. Con una leadership così serrata e con una Red Bull che non può permettersi passi falsi. Il ruolo di Perez come ostacolo può giocare un tassello importante. Piazzare anche solo una volta Ceco in mezzo ai McLaren diventa un problema. E se riuscissi a concretizzare qualche risultato in più, sono punti strappati a loro. Che potreste dire sì ma che ce frega, in realtà no perché Ferrari l'attacco al Red Bull lo sta tentando sui costruttori. Però questo è il video precedente, se non l'avete visto vi invito a recuperarlo. L'impressione è che dunque Red Bull ad Austin deve obbligatoriamente fare qualcosa, deve assolutamente cambiare la sua auto, vedremo qualcosa di nuovo. Magari anche un tentativo disperato per ritrovare competitività. Necessario quantomeno per salvare il titolo piloti. Che come abbiamo visto insieme può non essere così semplice portarlo a casa. In che modo però lo scopriremo prossimamente, dato che si sta piano piano avvicinando i weekend di gara, probabilmente dalla settimana prossima già qualcosa in più sapremo. Direi dunque di procedere con i ringraziamenti delle nuove persone che hanno deciso di supportare il canale. Stavolta vi metto a schermo, non si fa una classifica, non è importante. Ci tengo a ringraziare tutti. Si aggiungono alla lista Francesco Badarne, Mattia Bettinsoli, Jacopo Paoli, che mi offre un cornetto, io ti ringrazio però me lo tengo il cornetto, Pietro Pichi Graziani, Alberto Riva e Pomare Elia. Grazie mille, poi vedo di ricambiare in futuro, magari creo un gruppo Telegram. Datemi idee. Detto questo, in descrizione trovate tutti quanti i miei riferimenti social. Ragazzi, io vi saluto, da Tonio, era tutto, passo e chiudo.